Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzano e BV1 Variante in direzione di Bologna. In Fipili ci sono code per lavori tra Montelupo e Ginestra verso Firenze. Per le statali ricordiamo sulla statale 67 le chiusure per cantieri all'altezza di Anchetta nel comune di Fiesole, tutti i dettagli sui nostri canali social. Uno sguardo al traffico ferroviario Intercity 510, Salerno, Torino, Porta Nuova sta viaggiando con un'ora di ritardo. L'arrivo a massa centro è al momento previsto alle 14.28, salvo recupero. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Francoforte delle 14.35 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 15.20. Il volo Pisa-Palma di Mallorca delle 14.25 alle 14.45. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!